Si sorride, oggi è andato quasi tutto bene, via. Salierno purtroppo ha preso una botterella. Ma questo è solo l'infortunio del caccio. Oggi bene, lo avevo detto prima, ci vuole tempo. Non eravamo scarsi domenica, perché secondo me abbiamo fatto un grandissimo primo tempo contro una squadra, l'avevo detto prima, contro una squadra che giocava a memoria. Noi dobbiamo avere tempo, poi ci esprimeremo sicuramente molto meglio ancora di oggi. Io sono contento per la vittoria, dobbiamo ancora migliorare tantissimo, bisogna avere tempo per lavorare, questo è importante. Anedda era in forse fino alla fine, poi ha giocato e obiettivamente ha dato un'ottima mano alla squadra, pur giocando in condizioni non perfette. Anedda lo conosco, salta l'uomo, ci dà la superiorità numerica. Era in forse, perché è due settimane che ha avuto quell'infortunio, oggi l'ho rischiato fino a quando ne aveva. Sono contento per lui, ma sono contento anche per tutti gli altri, perché abbiamo fatto una grande prova di squadra, questo è l'importante. Allora mister, cosa non ha funzionato? Partiamo subito da una domanda. Ma è una partita difficile da analizzare, penso che il Trino abbia passato sei volte la metà campo, ha fatto quattro gol. La partita l'abbiamo sempre fatta noi, la differenza è che il Trino davanti ha avuto più cattiveria e più attenzione. Noi dietro siamo mancati negli episodi dei gol presi, perché alla fine le conclusioni sono quelle, non è che sono di più. E davanti siamo stati troppo poco incisivi per quello che abbiamo fatto, poca cattiveria, poca voglia. Adesso sono sette gol in due partite subite, forse la difesa sul banco degli imputati, perché comunque centrocampo attacco oggi ha dimostrato di poter comunque offendere e giocare la partita. La difesa sappiamo che ci manca un centrale, era squalificato, abbiamo neanche un rincazzo, ha giocato nel 98, prima partita, i due gol al primo tempo, purtroppo li ha presi lui per l'esperienza. Ci mancano dei giocatori, abbiamo perso anche Cianna in mezzo al campo, così. Cianna ha peraltro sei mesi di stop, la tegola dura. Cianna ormai quest'anno non c'è più, il problema è che noi dietro ci manca sicuramente un centrale, per non dire anche una punta davanti di peso. Gabriele, il primo gol, prima partita in casa, il primo gol della partita, poi un'ottima prestazione, hai tenuto alta l'avanguardia anche in dieci uomini, hai cercato di ritornare il quinto gol. È andata bene, è andata bene. Buona la seconda, non buona la prima, buona la seconda. C'è da dire che il Borgo Vercelli oggi ha vinto 3-0 a Baveno, quindi insomma confermato. Un'ottima squadra il Borgo Vercelli, anche questa è una squadra veramente tosta, solamente che noi siamo entrati in campo con l'atteggiamento giusto, come la scorsa domenica, e siamo riusciti subito a capitalizzare il vantaggio con un bel gol, sinceramente. Ho fatto un bel gol e poi siamo andati sul 2-0, loro hanno fatto un'occasione palla a terra dove siamo stati un filo disattenti, però l'unica cosa che abbiamo concesso è che abbiamo preso subito gol, poi dopo la partita fortunatamente è andata nel verso giusto. Ho fatto gol Ale di suo angolo e Amos sul rigore, quindi poi dopo non abbiamo rischiato tantissimo. Ed è stata una bella vittoria, sinceramente. Grazie a tutti.